Ciao ragazzi bentornati in questa partita classificata, oggi siamo assieme a Federico Che è uno dei migliori amici che ho sulla Playstation Il drone è di merda, allora te Fede hai un pompa? Ecco potreste andare sopra sulla botola e me la spacchi per piacere, grazie, si devi spaccarla non rinforzarla Ok perfetto, no, vieni qua, questa qua, ah no perfetto perfetto, si 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 l'hai riuscita a te, l'hai riuscita a te, l'hai riuscita, l'hai riuscita Sorry Grazie per avermi cosa fuori, ce l'hai riuscita Te prego Allora, fanno tutti fuori Madonna Ok Io cerco di killarli da qua Tranquillo 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 E muori Ed eccoci ragazzi sul round d'attacco Fanculo prendogli i punti Prendogli i punti Prendogli i punti Ah merda Allora Entriamo a cazzo duro No mamma mia ragazzi Mamma mia Mamma mia È possibile? Sì dai mi ha preso sulla chiappa Grande fede Entra nell'altro stanzino C'è C'è rock Ecco di qua Occhio Butto un drone No sono io È il mio corpo No Ok Ah è morto Rock è morto Rock è morto Entra 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 No ma È morto Affidati di me Ascoli un attimo Entra Vai avanti Vai sinistra No Esci sinistra Ecco Dritto a sinistra C'è Mute Dritto a sinistra 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 Entra 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 Vai Grande Andiamo Dovete tenere lo stagio al sicuro Riportate la stanza Sì signor Sì capitano Ragazzi Ragazzi eccoci su round Di difesa Si siamo voluti mettere sopra A dire la verità io non ho neanche votato perché stavo modificando un attimo l'arma che mi sono trovato tutto senza mirino Prendiamoci il mega corazzone Vabbè Boys 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 Ah fa una spawn kill Grandissimi Orco Giuda Che cazzo ma con nessuno che sta dentro c'è Vabbè ma dai ma che palle che cazzo È possibile che quando esco io me li trovo tutti io Tutti Grandissimo Ti do una mano con le telecamere Eccolo Eccolo Allora scordi di me vai giù E dove c'è bandit È perché io mi avevo rotto la telecamera Che team work signori Che team work Ed eccoci ragazzi Sul round di attacco Su questa clip vorrei portarvi anche la fase preparatoria Perché vi faccio vedere che io mi sono preso twitch e posso Distruggere il mondo Tipo guarda qua Vieni qua vieni qua Ops Vai 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 Fede Vai Fede te l'ho distrutto No il mio drone No il mio drone Bene 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 Allora Noi Ah guarda Non ce la fa neanche spaccare la telecamera Ah brutto BM di merda Siccome qua so che ce n'è uno No scherzavo Non ce ne sta nessuno Ho soltanto sprecato Undici colpi Spacca tutto Fede occhio là No dei scherzo No noi facciamo così Così E avviamo un drone Ma che paulè Che paulè Grande Fede Grande Fede Ah si Ferimento Un pafo Un culo Un'altra 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 Ferito signori Lo killa col Suo bel twitch signori Munizione esaurite No Vabbè ragazzi questo qua me lo killo io Me lo killo io signori Incredibile twitch Signori twitch kill col drone Di twitch E l'ultima kill signori Con la super mimetica Andiamo Vittoria perfetta ragazzi 432 Che schifo Che schifo Pensavo di aver fatto meglio Vabbè ragazzi Prima sono salito oro 2 Finalmente Adesso ci prendiamo un po' di puntozzi Bene 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 ragazzi Questo video qua Si può concludere adesso Manca poco Che siamo anche oro 3 Ragazzi Noi ci becchiamo subito domani Con un prossimo video Ciao signori Ciao signori Grazie a tutti.